Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo video del primo arco della Metal Gear Saga Oggi parliamo di Metal Gear Solid Premetto che, come ho già detto nel video precedente, ho già visto un walkthrough di Metal Gear Solid da Sabaku no Maiku prima di giocare Metal Gear Solid 2 Tuttavia, poi, grazie al carissimo amico Simone, che ringrazio qui e saluto ho potuto giocare il primo capitolo su PS3 Inutile dire che è stato inizialmente tremendo per via del fatto che il movimento era eseguibile soltanto dal D-pad Tuttavia, ci ho fatto il callo, anche se inizialmente avevo paura, quindi ho cominciato con una difficoltà easy pensando di poterla cambiare in New Game Plus come con Metal Gear Solid 2 Le emozioni che ho provato però giocando questo gioco sono state davvero particolari Un gioco vecchio ed invecchiato soprattutto ma ancora oggi un sacco divertente da giocare Nel giro di tre giorni ho finito ben tre run scoprendo di adorare il sistema delle card che purtroppo dopo Metal Gear Solid 2 non si è più visto O i boss sono divertentissimi e anche molto arcade e la trama chiaramente non manca in questo titolo ma non ne parleremo molto Era il 1998 e già c'erano due possibili finali che sono poi stati uniti da Kojima per la realizzazione di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 4 Inoltre ha un ottimo doppiaggio italiano che è sì scadente oggi ma all'epoca era davvero tanto tanto bello rispetto ad alcuni altri Di contro però c'è da dire che Kojima ha retconato un po' gli eventi di Metal Gear 1 e Metal Gear 2 in questo titolo prendendo una sorta di remake e quindi vengono resi un po' fastidiosi i dialoghi dove si parla di Big Boss o di Zanzibar Land quando tecnicamente Kojima li sta più o meno tra molte virgolette escludendo In breve con delle host come al solito da brivido Metal Gear Solid è un gioco che volentieri rigiocherò più in là come buona parte dei titoli di questa saga Quindi vi ringrazio di aver guardato il video mi dispiace che sia così breve però non c'era moltissimo da dire e io vi aspetto alla terza parte del primo arc Metal Gear Solid 3 Snake Eater Penso che interesserà a diversa gente questo Detto questo ci rivediamo ad un prossimo video e alla prossima Grazie a tutti